Finisce 0-0 senza reti la penultima trasferta stagionale del Taranto al curcio di Picerno, ma su questo risultato pesa quanto accaduto nel corso dell'intervallo. La partita è ripresa dopo il primo tempo con quasi mezz'ora di ritardo, c'è stato un parapiglia. Tre giocatori del Taranto sono finiti in ospedale, Favetta, Croce e Manzo. In più la squadra Rosso-Blu ha ripreso il gioco in 10 uomini, su quanto accaduto sarà necessario fare chiarezza e questo spetterà alla società Rosso-Blu. Ma per la cronaca il Taranto gioca in maglia bianca e deve rinunciare a giocatori importanti come D'Agostino, per lui 10 giorni di assenza e Vittorio Esposito, la lussazione che gli costringerà a terminare in anticipo la stagione. Il Taranto è supportato da circa 150 sostenitori giunti per l'occasione dal capologo Ionico. Andiamo alla cronaca, al terzo minuto c'è un diagonale di Esposito per il Picerno con il pallone che termina a lato. Il Taranto si fa pericoloso al quarto d'ora, al quindicesimo c'è un cross di Oggiano per Favetta, il quale da due passi non riesce a trovare l'impatto con il pallone, neutralizza il portiere Coletta. Il Picerno colpisce la base del palo al sedicesimo minuto con Kosovan. Il Taranto reagisce però alla mezz'ora, c'è il tiro di Oggiano che viene respinto in tuffo dall'estremo difensore del Picerno Coletta. Due minuti più tardi vibrate le proteste da parte dei calciatori Rosso-Blu per un contatto in aria Fontana-Oggiano. Quest'ultimo cade nel cuore dell'area di rigore Lucana per il direttore di gara, il signor Del Rio di Reggio Emilia, tutto regolare. Al quarantesimo palla gol per Favetta che da due passi non riesce a coordinarsi bene per battere a rete l'azione sfuma. Il Taranto continua a fare la partita al quarantasettesimo, nel secondo dei tre minuti di recupero assegnati nella prima frazione. C'è una parata di Coletta ancora su Oggiano, 3-2 sembra una questione personale. Un minuto più tardi, cioè all'ultimo dei tre di recupero, il diagonale di Esposito parato da Antonino che riesce a respingere sul primo palo. Poi, come dicevamo nell'intervallo, il parapiglia da chiarire quanto è accaduto. La società del Taranto aveva inizialmente addirittura pensato di non scendere più in campo per il secondo tempo. Il Taranto si presenta in dieci uomini, non ci sono Manzo, Croce e Favetta. Si vedono in campo invece Massimo e Roberti. Al sesto c'è una punizione di Oggiano, super intervento del portiere del Picerno, Coletta. Al decimo minuto però c'è una palla goal per Vanacore, il triangolo all'interno dell'area di rigore con Santaniello che libera al tiro il giovane esterno Mancino del Picerno che spedisce alto. Al diciottesimo su corner, testata di Di Bari, pallone alto. Nonostante l'inferiorità numerica il Taranto fa la partita per tutto il secondo tempo. Il Picerno, esattamente come aveva fatto all'andata, si difende ad oltranza e riparte. Al ventisettesimo c'è un diagonale di Kosovan con il pallone alto. E infine al secondo dei cinque minuti di recupero, punizione di Marsiri. Ancora un intervento di Coletta che sancisce poi il risultato finale di 0-0 tra Picerno e Taranto. Il Picerno con questo punto festeggia la promozione matematica in Serie C. Il Taranto nelle ultime due giornate dovrà giocarsi ancora alla piazza d'onore. Il Taranto nel corno.